La strada, Pagliacci e Rigoletto apriranno la nuova stagione artistica del Teatro Maruccino di Chieti. Questa mattina la presentazione da parte dei vertici dell'ente che con soddisfazione hanno anche sottolineato l'aumento dei contributi statali grazie all'ottimo lavoro portato avanti negli ultimi anni. Non possiamo pensare di produrre due capolavori della storia in maniera completamente autonoma. Per cui i nomi importanti li vedrete, li sentirete, li potete apprezzare, li leggete sulla locandina. Le collaborazioni importanti sono con tutte le forze di questa regione. Coro, orchestra sinfonica abruzzese, compagini macchinisti, scenografi. Per cui sarà una stagione all'insegna della collaborazione. Pagliacci, Ruggero e Leoncavallo sono i 150 anni dalla morte. Io ho avuto una grande esperienza qualche anno fa, sono stato in giuria al concorso Leoncavallo di Montalto Uffugo. Ho potuto selezionare grandissime voci per cui avremo un tenore molto importante. Non vi sto ad anticipare le cose, ma venite in teatro perché veramente ne vale la pena. Rigoletto, grande opera verdiana, per cui un'opera che raccoglie tutto il pubblico regionale, perché è un'opera veramente amata in tutto il nostro territorio e in tutto il mondo. Come diceva il Sindaco, l'aumento dei proventi da parte dello Stato è un segnale di riconoscimento all'attività artistica che si sta svolgendo. Il resto sul territorio, devo ringraziare veramente la deputazione teatrale, il mio presidente, i miei consiglieri e il mio direttore amministrativo che fanno un lavoro serrato sul territorio. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.